Tutto e per tutto, comincio anche qui, sto provando di fare un ciao a tutti. Allora, sono live in questo momento sia su Facebook che su mio sito gilcuber.it. Su gilcuber.it potrete vedere le mie slide, qui su Facebook no, perché è una questione proprio di un po' di streaming, un po' di questioni da gestire insieme e sono qui per lavorare con voi per parlare del mio canale, per parlare di benessere, di parlare di autostima, miei prodotti e su gilcuber.it diventa un vero e proprio web channel. Allora, abbiamo diverse cose che succedono su web channel, allora se andate, di solito, non so se state sul computer, potete aprire due finestre e così potreste essere qui su Facebook, ma potreste anche aprire un'altra finestra e andare su gilcuber.it e vedere su home page questo live che sta andando in diretta in tempo reale. Lo sto anche registrando perché poi per qualsiasi evenienza o complicazione posso tornare indietro e aiutarvi a comunque a rivederlo in seconda battuta e voglio parlarvi un po' di me, un po' del mio mondo, un po' di questo web channel. C'è il zona privé, adesso il zona privé che cos'è? È members only, cioè ti devi registrare come membro così vi abilitate anche la possibilità di ricevere il newsletter e la troverete face gym, allenamenti semplici perché per allenamenti più complessi dovrete andare sulla mia palestra online. Ma per chi deve iniziare? Per chi vuole semplicemente fare magari un risveglio muscolare? Per chi vuole capire perché il caffè verde funziona e come si usa il dermaroller? Ci saranno tutorial e in questo mondo su privé potete vedere tutto e poi comincerete, se seguite gilcooper.it e su Facebook comincerete a vedere che programmerò più live. Le live possono essere webinar, possono essere tutorial o possono essere allenamenti e mi vedrete molto più spesso, sarà un vero e proprio canale web del mio mondo. Allora mi chiamo Jill, piacere, sono Jill Cooper e prima dei web, io lavoro da 20 anni in televisione, Expert Fitness di Rai e Mediaset per tanti anni con Detto Fatto con la Rai, con Mediaset ho fatto Mediashopping, ho fatto come si chiama Grandi Fratello, ho fatto amici con Mario Di Filippi, poi con Rai ho fatto Pechino Express, insomma ho fatto tante cose. In 35 anni di fitness ho visto tanto e per questo quando dico io con tutto rispetto questi ragazzi che sono bravissimi, che la vedete sui social, io ho una carriera alle mie spalle, una carriera dove sono scesa in campo, ho lavorato con le persone e non è che faccio soltanto vedere quelle che faccio io, no, io so allenare le persone, stimolare le persone e la cosa ancora più importante è motivare le persone, perché la parte più difficile del mio lavoro è motivare le persone a prendere una decisione di partire, una decisione di amarsi, una decisione di volersi bene, ok? Allora, otto libri, ho già scritto otto libri, 500.000 DVD venduto con Donna Moderna prima che c'era YouTube, prima che c'erano i social, che era una... Molto di voi ce l'avete ancora questo pezzo della storia, come si potrebbe dire, e poi ho venduto 3 milioni di prodotti, tra Media Shopping, Home Shopping Europe, HSE, GM24, perché lo dico questo? 3 milioni di prodotti vuol dire che ho avuto talmente tante persone che hanno avuto risultati con i miei prodotti, ho fatto quasi una prova scientifica, ok? Quando tu vedi 3 milioni di persone, le persone che mi scrivono che sono dimagrita, dormo meglio, sono meno stressata, sono più in forma di 10 anni fa, vuol dire che queste 3 milioni di persone mi hanno aiutato a capire che cosa funziona o non funziona. Allora, io di nuovo qui su Facebook saluto a tutti quanti, ricordate che su Facebook potete, in questo momento, se siete sul computer, andare anche su gilcooper.it e vedrete anche i slide, ok? Ho messo anche i slide, così avete la possibilità. Grazie Claudia, sei veramente carina. Grazie mille. Siamo proprio qui per questo, per aiutare le persone a volersi bene, per aiutare le persone a trattarsi con rispetto. Allora, ho fatto amici di Maria De Filippi, ventidue, ventun'anni fa, ventidue anni fa, Rai Uno Mattina, Detto Fatto, Grande Fratello, Costanza Show, Pechino Express, Pomeriggio Cinque, ho fatto tante cose. E' bello perché sono, diciamo, è la mia carriera, è una carriera che ti aiuta a diventare chi sei, ti aiuta a studiare. Quando stendo un libro devo studiare tantissimo, per esempio il Metodo, questo è un penultimo libro che ho scritto, c'erano più di 80, 80, diciamo, studi scientifici che sono citati per rallentare il processo di invecchiamento. Ma il mio primo, primo, primo libro, ho scritto una lontana, un 2003, era Conquista il tuo corpo con Newton e Compton. E perché dicevo conquista il tuo corpo? Perché non ho mai cambiato questa idea che se noi conquistiamo il nostro corpo attraverso lo sport, trattamento, diciamo, il sonno, ci sono diverse perni ovviamente, io sarò più in controllo della mia vita. E questa è la base di tutto quello che faccio. E' normale che io ti dico allenarti, è normale che ti dico di mangiare bene, è normale che ti dico di dormire bene, è normale che ti dico di nutrirti bene, è normale che ti dico di integrarti bene, è normale che ti dico di bere tanta acqua, di eliminare il fumo, di eliminare le tossine nel tuo corpo. Cioè, è normale che dico tutto questo. Ma perché lo dico? Lo dico perché, certo, quando vivi dentro la tua, questa è una macchina, e quando questa macchina funziona bene, tu vivi dentro una discoteca, non stai più vivendo dentro una prigione, non stai più vivendo dentro qualcosa che è ingolfato, depresso, apatico, pesante, e a volte veramente buio. Diventa buio quando noi non trattiamo il nostro corpo con rispetto. E' impossibile conquistare la felicità di fuori di noi. Perché se non vivo dentro un corpo che mi dà energia, che mi dà voglio di fare, che mi va veramente a abbracciare e a dentare la vita con tutta me stessa, la vita sarà meno bello. Mi reputo un'ambasciatrice del benessere. La mia missione è promuovere la sana regola del benessere attraverso movimento, nutrizione, e volersi bene. E oggi voglio parlare tanto di volersi bene, perché ho parlato di perdono oggi sui social e molti hanno detto quanto mi piacerebbe capire come perdonare. E' un dono, è un'importante missione per me che porto avanti su tutto, sui social, sulle stampa, con eventi live. Parlo sempre di questo concetto di base. Il concetto di base è volermi bene. Se mi voglio bene tratterò il mio corpo con rispetto, se tratto il mio corpo con rispetto avrò un risultato e avviverò dentro una discoteca anziché una prigione. Il concetto di base è molto semplice. Sono stati negli Stati Uniti, ho visto quanto anche persone che sono colleghi, 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 ho accompagnato mio padre alla sua, diciamo, sessione di fisioterapia per l'anca e questi ragazzi erano fuori forma. Ok? Io sto dicendo ambasciatrice per il benessere anche negli Stati Uniti a questo punto, perché ha portato anche Quantars in America si stanno impazzando per Quantars. Mi ha detto questo, voglio un attimo, diciamo, concretizzare la mia storia, la mia professionalità e la mia curriculum, se vogliamo dire, del fatto che io sono una professionista del fitness da più di 35 anni. Mi chiamano la regina del fitness, ho scuole di formazioni, Superjump, Freedom, Racewalking lo facevo per Pannata Sport, Fluid che sta in arrivo, mio lavoro anche professional, non è soltanto ti faccio vedere come ti alleni, è carino, no. È importante che voi capite che quando vi parlo e quando vi do i consigli per cambiare, c'è qualcosa di dietro, cioè non è soltanto questa voglia di apparire e farti vedere quanto sono faiga, ok, no. È un vero, proprio, ricerca da tre decenni, andando per quattro decenni, a capire dove il fitness classico toppa, dove non riesce a portare a fondo perché la gente comincia, poi riengrassano, o perché le persone gettano la spugna, o perché le persone poi a un certo punto hanno un rifiuto della palestra, o perché le persone partono e poi non riescono a ottenere i risultati diciamo desiderati. Io sono qui per questo, perché io sono un curioso di natura e il mio lavoro e questo nuovo lavoro, spero che vi piaccia questa nuova cosa, sarò molto più presente qui, sul mio sito, ovviamente, gcuper.it, sui miei social e vi darò un vero e proprio palenzesto dove io non solo soltanto lì a spiegare i miei prodotti ma voglio spiegarvi il mio concetto di base, cioè benessere, stare bene con me stessa, però che cos'è benessere? Perdonare, perché perdonare? Ritorniamo su questo concetto perché molti di voi mi avete chiesto come si perdona? Allora è un processo? Non posso scrocchiare le dita e dire ah lo sono perdonato, va bene, ma la verità è che molte persone dicono non posso perdonare Jill perché mi hanno fatto male. Il dono non è per loro, non stai dicendo guarda tu non mi hai fatto male e facciamo finta che tu non mi hai fatto male. Il dono è che non ti permetto più di farmi male perché io non mi muggino più, non ci ripasso più, divento superiore ma non perché è una gara di diventare superiore, ma a un certo punto dico tu non meriti il mio di questo punto tu non meriti la mia rabbia, tu non meriti la mia tristezza, tu non meriti di farmi sentire un colpo al cuore ogni volta che io ricordo quel male e per questo sto dicendo il perdono è un dono per un dono, un regalo che faccio a me stessa come si fa, si inizia si inizia con quello che io chiamo la lista del perdono ed è un lavoro che io scrivo io ti perdono blank, nome, evento, persona, perché mi hai fatto questo e lo spieghi e lo scrivi. Quando io applico la penna sulla carta succede una cosa, diventa una sorta di analisi, un'analisi, autoanalisi che mi permette di dialogare con il mio subconscio. A quel punto a volte ti esceranno usciranno dei sentimenti di rancori di dolore di pianti di rabbia del famoso rospo che ti blocca qua perché non riesci a parlare perché ti ha fatto male e devi sfruttare quei rospi che il rospi tenuto dentro il corpo ragazzi prima o poi diventeranno noia. Non vado oltre perché non mi piace essere pesanti ma noia. Ma la vostra amica Jill, ecco, a Rimini ho una padiglione di mille metri quadrati dove io vedo migliaia di persone in quei giorni e volevo semplicemente dire che fidatevi di me perché c'è una carriera alla spalla e ho visto non dico tutto ma porca paletta se ho visto tanto ho visto quelle che funzionano quello che potrebbe funzionare ma magari è troppo aggressivo quello che delle persone fissate e poi spariscono poi tornano ingrassati vedo le persone che diventano troppo fissate e sfiorano un altro l'altro settore di diventare troppo allenati e mangiare male e sfiorare addirittura l'anoressia ho visto tanto ok il mio lavoro è di aiutarti attraverso l'autostima a trovare l'equilibrio ok ci saranno ci saranno ve lo dico con tutto il mio cuore ci saranno giorni sì e ci saranno giorni no non pensate scusatemi devo inficciolire questo poco a poco eccoci qua ok per chi sta sul mio sito lo sa ok perché ho il ho il sostegno delle mie delle mie slide sul mio sito geocuper.it ribadisco a tutti quanti magari stati appena sintonizzando su facebook sul mio sito geocuper.it su home page questo live sta andando in diretta in questo momento con i slide rimane ok lo potete vedere comincerò a fare un vero e proprio palinsesto durante l'arca della settimana faremo webinar e tutorial e allenamenti e poi c'è la zona privé ok la zona privé su geocuper.it è per solo membri gratuitamente non dovete pagare niente 0 0 0 0 ma dovete essere un membro ok e lì ci avremo tutorial parleremo di face gym faremo allenamenti light come facevo in televisione perché molto di voi ha detto Jill non sai più sul canale 63 con il tuo allenamento non sta a me mi dispiace una scelta di nuovo di nuovo capi ognuno libero a farsi male come preferire così io lo faccio io per voi sui miei canali potete allenarvi con me delicatamente su gilcooper.it quando siete pronti per fare allenamenti più seri venite sulla mia palestra online nel geoputo gilcooper.com dove c'è base silver gold e là ci si allena veramente non è non è acqua di rose acqua di rose lo farò sul mio sito invece sulla mia palestra online vedrete allenamenti molto molto seri ok andiamo avanti allora autostima che cos'è l'autostima devo avere più autostima ma se fosse così facile di aumentare l'autostima nessuno sarebbe insicuro ingrassato confidenzato o fidanzata sbagliato timido schiacciato o arrabbiato con se stessa giusto ok anche molte delle diciamo strafoghi di sostanze che può essere di qualsiasi entità è un autolesionismo mi sto punendo perché penso di non meritare che cos'è autostima autostima una stima di quanto valgo né più né meno ok ognuno di noi abbiamo una stima di quanto veniamo e di conseguenza mi tratterò con l'amore e il rispetto in proporzioni di quanto penso di valere ovviamente avete avuto non lo so la vostra bicicletta che l'avete comprato con i vostri soldi quanto l'avete stimato perché avete fatto avete messo a parte la paghetta per otto anni e finalmente compri quella bicicletta quella bicicletta è talmente valorosa perché l'hai speso perché ti sei impegnato allora lo pulisci e lo chiudi e lo tieni sotto diciamo sotto una coperta e così non si prende neanche l'umidità non si eruginisce ok poi c'è un'altra cosa che magari qualcuno ti ha regalato una bicicletta qualsiasi e dice vabbè mi hanno regalato non l'hai sofferto quell'altra bicicletta e però sempre di una bicicletta chi la dà valore tu la dai valore secondo esempio stima ok facciamo caso che io ti voglio vendere una casa io avrò una stima di quell'oggetto e tu avrai una stima di quell'oggetto e magari io la mia stima era ok facciamo caso facciamolo semplice semplice c'è una casa che io chiedo 100.000 euro per me quella stima è proprio non plus ultra tu vedi quella casa pensi che quella casa vale 150.000 euro e mi offri 125.000 euro a quel punto io penso di aver fatto l'affare ma anche tu hai pensato di fatto l'affare perché la stima non è veritaria non è reale è una cosa che tu hai fissato nella tua testa che conta ok per questo l'autostima spesso e volentieri è sbagliato la tua autostima potrebbe essere talmente schiacciato non ti stai realizzando il tuo potenziale perché non ti stimi e non ti tratti con rispetto e non ti fai trattare con rispetto perché non devi aspettare l'accettazione altrui per amarti non devi aspettare il dimagrimento per amarti non devi aspettare che qualcuno dice dai ti amo ti voglio perché se tu non ti ami e ti tratti con rispetto nessuno nessuno lo farà per voi basta che guardi non lo so un branco di lupi o cani con il cane che è più messo a disparte è quello che viene sempre menato ok non so se avete mai avuto un gruppo in liceo quando eravate bambini andate sempre ad attaccare il più debole se ti tratti con debole perché non pensi di 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 meritare il rischio è che l'altra persona interagiranno con te con quella definizione della tua stima perché siamo la legge dell'attrazione l'energia che io mando fuori riattrae riattrai quella è la mia aspettativa se io aspetto cioè io infatti lo noto molto questa cosa a volte vedo proprio sui soci io parlo di una cosa totalmente lineare perché chi mi conosce sa che sono abbastanza gioiosa felice parlo della positività parlo di una cosa carina tipo il perdono dico così e ci sono altre persone faccio per te dire perdono certo perché non vogliono vedere il miracolo chi non vuole vedere il miracolo vedrà sempre la noia non so che se non vuoi vedere il miracolo che cosa vedi vedi la tristezza vedi vedi l'impossibilità vedi le cose brutte e invece se io dico no credo nei miracoli io vedrò miracoli se io credo di meritare tanto io vedrò che la gente mi tratta con rispetto perché la legge dell'attrazione quello che io proietto fuori è quello che vedo epigenetica questo è molto interessante perché l'epigenetica sfiora il metafisica ok la metafisica è dove il pensiero e l'energia interagisce a livello fisico no si cosomma somatizzo quello che penso l'epigenetica è molto legato a questo adesso la scienza ce la può spiegare l'epigenetica è sopra i nostri geni sopra i nostri geni allora il pensiero influisce sulla tua salute o la mia salute in forma fisica se io sono sempre negativa e non mi amo e non mi accetto e non tento di perdonare e lascio perché se io non perdono ritorno su questo concetto molto importante rimuginando quello che mi hanno fatto in gioventù e perché mi hanno fatto e perché mi hanno maltrattato uno comincia con l'autolesionismo perché mi giustifico la mia insicurezza e mi plasmo o mi placca la mia ingiustezza con il cibo sesso gioco sostanze fallimenti e quant'altro perché vado a riprovarmi o comprovare che io non merito giusto invece se io li lascio andare e dico avete avuto torto sono una persona gradevole intelligente abbastanza simpatico e a volte divertente ok nessuno è perfetto ma se comincio a dire guarda avete torto e io mi amo per prima e chi non mi ama via strada cambia è un processo ovviamente perdono è un processo amarsi è un processo ma molto importante che entrate in questo processo ragazzi perché il pensiero è uguale a energia elettroencefalogramma elettroencefalogramma il tuo cervello del tuo computer del cervello consuma una quantità di energia al giorno e ossigeno cioè senza 4 minuti il cervello muore ma il corpo no il corpo cioè il cervello consuma 20% di tutta la rata metabolica basale al giorno cioè 20% della tua rata metabolica basale è consumato soltanto del circuito elettrico del cervello che ovviamente è minima parte del corpo ma consuma 20% ok e questa è una questione energetica allora l'energia crea un'emozione il pensiero crea un'emozione per esempio se io ti chiedo di essere trionfante ok che cosa succederà noi che l'emozione creata da un pensiero creerà una cascata chimica la cascata chimica è l'emozione perché l'emozione quando sento un amore è una reazione chimica esempio proviamo di essere trionfanti sulla conto dei tre abbiamo appena vinto la coppia del mondo uno due tre no non lo farei soltanto a me su tre si trionfante uno due tre ok senti come ti senti diverso ok senti come se sei stato sollevato perché pensando di essere trionfante ti ha creato una cascata chimica tra neurotrasmettatori e ormoni che ti ha dato una sensazione di wow di di verve di 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 sprono perché dice abbiamo appena creato una cascata di emozioni che poi interagisce e influisce con le produzioni di proteine a livello cellulare epigenetica quando persone dicono ah no va bene come si chiama assolutamente tutto scritto sui miei geni no onestamente geneticamente parlando 1,2% di tutte le maletie sono realmente 100% genetiche se una persona dice che tu hai una predisposizione genetica che scende al di là al di sotto di 100% se è anche il 98% vuol dire che c'è 2% in modo epigenetico con lo stile di vita a non farlo accadere se dicono che c'hai 50% cioè se io ho questo gene avrò x% in più di avere un problema se io comincio a concentrare sul problema io comincerò a creare una cascata di terrore nella mia vita che molto probabilmente chiuderà o sederà o bloccherà la produzione benefica delle giuste messaggeri e proteici delle mie cellule probabilmente portandomi verso quella malattia ma io potrei anche fare l'altro posso amarmi di più trattarmi con rispetto usare il mio stesso pensiero per creare una cascata di positività nella mia vita e avere una risposta diversa della mia vita allora consigli di autostima journaling ok prendetevi un diario carta e penna e sia osservatore dei tuoi pensieri allora durante l'arco della giornata provate di vedere quante volte vi per questo primo diciamo prima partenza quanti ti critichi quanti ti critichi ogni volta che dici una critica apri il giornale prendi un piccolo taccuino un piccolo molle schiene dice alle nove mi sono detta sciocca brutta non mi piace neanche dirlo perché so quanto sono potenti le parole ma tutto quello che negatività che dici e alla fine della giornata scrivi oggi mi sono sentita XXY perché quello mettere carta la penna sulla carta innesca un dialogo con i livelli più profondi del tuo subconscio a volte non subito apparente sul concio ok il concio è più o meno responsabile del 5% della nostra giornata subconscio è responsabile di 95% di quello che ci succede però è molto importante cominciare a osservare non essere come si su autopilot non essere diciamo pilota automatico della tua vita cominciate a diventare responsabili del vostro benessere positivismo forzato non lo dico oggi perché comincio già a finire il mio tempo con voi ma positivismo forzato è scelgo di vedere un bicchiere mezzo pieno scelgo di respirare visualizzare calmare parlare positività sulla mia vita e andare avanti e agire meccanicamente allora allenati quando ti dico di allenarti 10 minuti al giorno perché meccanicamente il corpo è un veicolo corpo sano corpo forte corpo elastico ti farà vivere più intensamente intensamente è più sensibile ti senti di più quando sei allenato integrazione fondamentale perché ripeto 3 milioni di prodotti venduti tra attrezze genici integratori DVD libri quant'altro e ti dico che l'integrazione è fondamentale specialmente per trattarti bene perché molti di voi avete il metabolismo bloccato vero perché siete cambiati genitori siete diventati mamma papà state invecchiando cominciate a vedere questo metabolismo che si rallenta inizia depressione o ce lo sto invecchiando paure della morte perché l'invecchiamento poi alla fine paure della morte e poi c'è il trattamento che è un autococcola una coccola bellissima che ci permette di avere questo momento di gestualità di dire io valgo io mi amo io mi proteggo e a un certo punto non so quanto tempo ci vorrà ma a un certo punto quando qualcuno ti guarda che ti ha fatto veramente male nella vita dice non mi fai più male cioè non non solo che non mi fai più male non non me ne frega niente cioè veramente wow non non mi importa cioè non non mi tocchi non è quello la libertà è dove voglio aiutarvi allora fino a 15 febbraio Turbo Diet Plus e best seller di tutti i tempi Caffè Verde con Garcinia Cambogia per l'equilibrio del peso metabolizzare i lipidi controllo del senso di fame per tutti i miei amici che si puniscono con quella bassa autostima con la fame nervosa perché la depressione porta fame nervose perché c'è una riduzione della serotonina e la serotonina è legato alla fame e l'elecarnitina che facilita al metabolismo metabolizzarsi questi grassi ed è qualcosa molto molto potente più l'integrazione che ci aiuta a dormire meglio o i capelli o cioè tante cose però questo caffè verde che è best seller veramente di tutti i tempi avrò venduto più di 200.000 pezzi di caffè verde solo aumenta tonifica il metabolismo basale ok quello dove c'è anche il tuo cervello che consuma diciamo calorie fegato consuma calorie polmoni consumano calorie e il caffè verde va a aiutare le cellule a consumare globalmente più energia e tu comincerai a vedere che ti torna la linea giovenile ti aiuterà a ringiovenire il metabolismo riattiva il metabolismo un antiossedante anti anti age che è molto importante per la salute delle cellule però ricordate che questa macchina conquista il corpo conquista mia autostima conquista mia autostima mi difendo con mia famiglia con mio collega di lavoro mi difendo di più comincio a sentirmi molto più in controllo della mia vita e tutto diventa veramente figatosa più divertente a vivere quando sei ben piazzato sicuro di te ovviamente non sempre sicuro di te non sono sempre sicuro di me ogni tanto chiamo mio marito in lacrime mi sento giù oggi mi sento fluffi fluffi succede però è l'accezione non è più la regola questo è dove voglio farvi arrivare un bello opportunità di essere umani sbagliare tentare a migliorarci ma non gettando la spugna non lasciandoci vinti che tutto è scritto sui nostri geni e non abbiamo la possibilità di reagire viviamo la resta della vita sopravvivendo e non vivendo oh porca paletta aiuta il set point il set point è legato al nostro metabolismo basale migliora l'energia la nostra caffè verde aiuta la pelle perché è un antiossedante basta un capsula al giorno poi abbiamo i belli benefici di attivi attori metabolici e che ti danno risultati più facilmente mantenibili io vi conosco io immagino che magari tu mi stai perché mi ricordo anch'io ho cominciato il percorso con tutto quello del benessere 27 anni fa e io ero molto giù ho sofferto molto bullismo da piccola ero molto insicura dicevo perché me lo fai tanto perché volevo stare meglio leggevo i libri e dicevo ok ho capito me lo dice di farlo ma come si fa però se noi cominciamo con dei piccoli passi scriviamo il nostro diario vi insegnerò di fare pensiero positivo ad alta voce positivismo forzato lo chiamo io e poi usiamo anche delle chiavi che ti danno un risultato prima io riesco a aiutarti anche a riprogrammare più velocemente il subconscio perché il subconscio quello che è legato ai tuoi rancori passati tua programmazione passato tutto del passato che ti ha portato oggi di essere dove stai ha bisogno di crederci come si crede si crede perché vedi i risultati se tu cominci a fare 10 minuti al giorno settimo settimo ottavo giorno diciamo ah però qualcosa sta succedendo qua continuo ah prendi un attivatore metabolico e comincio a vedere la pancia che si riduce ah funziona e continui il mio lavoro come motivatore non è soltanto di motivarti ma se io riesco a darti risultati prima io so perfettamente che sarai innescato una voglia di continuare perché conosco molto bene la sic umana ecco perché venite da me per questi 35 anni di esperienza perché ho visto tante persone avere risultati ho visto tante le stesse persone gettare la spugna e tornare indietro la famosa dieta yo-yo perdo peso riprendo peso perdo peso riprendo peso perdo peso riprendo peso perdo peso riprendo più peso e gonfio di più con ogni biasimo alla fine di riprendere quel peso e dove devo entrare io e aiutarvi a avere risultati la cosa bella degli attivatori metabolici è che non forzano il cuore perché i miei attivatori metabolici non agiscono su diciamo quelle che io li chiamo schiccarosi quelle che gli danno un rush di adrenalina tachicardiaci perché quello quando io produco troppo adrenalina sto anche producendo accanto a sé cortisolo e noi sappiamo che il cortisolo è un catabolico che ti fa ingrassare la pancia così il minuto che lasci quelli l'eccesso di cortisolo ti fa riprendere i chili in eccesso il caffè verde non agisce sul cortisolo agisce sul tono metabolico consumendo più energia come antiossidante riducendo i danni dei radicali liberi e ci aiuta a drenare un'altra cosa che ci aiuta e ci aiuta con la livellazione della glicemia che ti aiuta ad avere tante energie come la dieta zona qui attiva il tuo metabolismo perdita di centimetri e risultati altre cose che io consiglio sempre perché sempre è una cosa pazzesca è trampolino amici se tu sei fuori forma hai mal di schiena mal di ginocchio sei obesa obeso trampolino non saltando molleggiando perché il movimento massaggiatore del massaggiante del trampolino ho visto persone perdere fino a 60 kg 30 kg 20 kg 3 mesi 30 kg 20 kg in 5 mesi 60 kg in un anno 45 kg in 9 mesi sono tutte diverse persone treni liquidi in accesso 10 minuti di trampolino sono come 30 minuti di corsa stasera non spiego perché ci vedremo sui miei social una volta un po' in modo globale una volta un po' più mirato solo su un singolo concetto o singolo diciamo lato del mio mondo protegge le articolazioni non è un trampolino professionale non ti aggrava sull'articolazione vada bene che sia professionale ok quelli che sono mingirline economici non vanno bene deve essere professionale stimola fino al 191% di fibre muscolari in più rispetto al lavoro a terra aiuta a migliorare gli anestetismi delle cellulite e puoi bruciare fino a 900 kilocalorie all'ora potrei andare avanti ma non lo faccio perché siamo già superati mezz'ora e non voglio rubarvi troppo tempo però scrivetemi sia qui su facebook scrivetemi su info chiocciolo gilcooper.it ripeto info chiocciolo gilcooper.it dove io rispondo personalmente per i miei prodotti ti aiuto a capire qual è il giusto prodotto per te c'è zona privé nel mio sito nel mio web canale perché diventerà un web canale un vero e proprio canale dove potete venire allenarvi poco perché veramente volete allenarvi venite sulla mia palestra online naunjilcooper.com però mini allenamento tutorial un tanto motivazione lo troverete lì sia su home page dove ci sono i live e sia sulla zona privé dove ogni giorno c'è un nuovo video dedicato al benessere che può essere allenamento face gym tutorial pedale vibrante derma roller anticellulite con le coppe e via dicendo altre cose che sto facendo sul mio sito mio sito sta diventando video cioè se tu vai a vedere diversi prodotti è un processo un po' lungo ma se per esempio vai a vedere Turbo Diet Plus vai sopra vedrete dei grafici vedrete dei video vedrete dei testimonial di persone che hanno utilizzato quei prodotti e così il video ti spiega ancora meglio come utilizzarli perché utilizzarli e quando utilizzarli e vedere che cosa è successo per le altre persone vi ringrazio tantissimo per il vostro tempo proverò di tenere il palenzesto in giro ripeto è un work in progress sto lavorando datemi questo mese per mettere tutto in carregiata da marzo sarà molto più l'ige al dovere l'ige al dovere non so se lo sto dicendo correttamente però comunque sto lavorando per voi per essere presente sul mio web channel che è gilcuber.it e ogni tanto qui anche su Facebook e vi auguro veramente una serata meravigliosa meravigliosa per la curiosità meravigliosa per l'autostima cominciate a perdonare cominciate a scrivere cominciate a trattarvi con rispetto perché siete veramente molto di più di quelli che pensate e quando arrivate a quel momento a dire sto bene nelle mie pelle mi alleno perché è divertente non perché devo essere magra ma perché voglio essere viva cambia tutto cambia tutto fallo per te fallo per te e questo è un parco giochi questo corpo è un parco giochi e diventa la vita diventa una figata veramente bacio a tutti quanti sono tornato in Italia è passata una serata molto molto figatosa ciao e ciao anche a voi vi voglio bene